Un pannello solare nel telecomando. Ciao e bentornati dal vostro Loretech. Dopo il grande successo dell'upgrade del telecomando della mia tv Samsung è arrivato il momento di portarvi un altro upgrade. Parliamo sempre di telecomandi ma in questo caso vi mostro il nuovo telecomando di casa Samsung. Ci sono due grandi novità, un pannello solare e un'uscita USB-C. Ma prima di parlarvene vediamo un breve unboxing. Questa è come si presenta la confezione, abbiamo l'anteprima del nostro telecomando Smart TV Voice Control per Smart TV di casa Samsung. Qua abbiamo le brevi istruzioni per fare il pairing e associare il nostro telecomando. Lo andiamo ad unboxare, qua abbiamo di nuovo le istruzioni per fare il pairing e qui abbiamo il nostro bellissimo telecomando corpo in plastica. Nella parte posteriore abbiamo questo pannellino solare che ci permette di ricaricare la batteria al suo interno. In alternativa possiamo comunque caricare la batteria attraverso l'uscita di tipo USB-C. Che cosa è presente nel telecomando? Tasto di accensione, qua abbiamo il foro per il LED e anche il riconoscimento vocale. Tasti multifunzione, riconoscimento vocale, tasto info, tasto indietro, tasto home, play, pausa, aumentare, abbassare il volume, andare avanti con i canali e quattro tasti personalizzati per accedere velocemente a Netflix, Prime Video, Samsung TV e Disney+. Niente di più semplice per poterlo associare alla nostra TV, in questo caso un QLED Q60R di casa Samsung, basta tenere premuto i due tasti, il tasto indietro e il tasto play e pausa. E in pochi secondi il telecomando è perfettamente collegato. E' arrivato il momento di mostrarvi le differenze tra il vecchio e il nuovo telecomando. Ve li metto un attimo a confronto, la lunghezza è più o meno identica, per quanto riguarda lo spessore, qui scendiamo drasticamente anche l'ergonomia, abbiamo una linea più sottile, qua abbiamo questa curva, nella parte posteriore qua abbiamo il pannello solare, qui non abbiamo praticamente niente, e qua abbiamo la porta USB per ricaricare. Al suo interno è presente una batteria che ci permette di poter far funzionare il nostro telecomando. Per quanto riguarda il vecchio telecomando abbiamo il suo sportellino con le due pile stilo, in questo caso io utilizzo delle pile ricaricabili. Il sensore qui è a vista, mentre qui è stato nascosto nella parte del telecomando. I tasti funzioni sono pressoché simili, hanno soltanto aggiunto magari il tasto di scelta rapida per quanto riguarda i canali di Samsung. Entrambi i telecomandi hanno il riconoscimento vocale tenendo premuto il microfono, comodissimo per gestire tutte le funzioni della TV. Vi ho fatto vedere come utilizzare il nuovo telecomando, praticamente identico al vecchio, con una particolarità. Però non avete più bisogno di pile, non dovete più pensare di ricaricare le pile del vostro telecomando o di trovarvi in situazioni scomode in cui il telecomando è scarico e non potete utilizzare la vostra TV. È anche vero che la TV vi mostra comunque una notifica in cui vi indica che le batterie si stanno per scaricare. Adesso è arrivato il momento di trarre le conclusioni. Vale la pena acquistare il nuovo telecomando di casa Samsung? Beh, per me la risposta è sì. Cominciamo intanto dalla qualità costruttiva, devo dire ottima, più piccolo, più sottile. Non abbiamo bisogno di ricaricare le pile o sostituire le pile. Il pannello solare permette di ricaricare la batteria sia con la luce che entra dalle nostre finestre ma anche con la luce artificiale delle nostre lampadine. Ottima la possibilità di avere il tasto per il riconoscimento vocale per sfruttare tutti i programmi della nostra TV. Utile anche la possibilità di avere una porta USB-C nel caso in cui non dovesse più funzionare il pannellino solare o dovessimo avere poche illuminazioni a casa. Per quanto riguarda il prezzo, magari il tasto dolente si trova su Amazon intorno ai 50€ ma vi dà sicuramente dei vantaggi perché non dovete più stare a sostituire le pile o magari andarle a ricaricare. Per cui, dal mio punto di vista, vale la pena eseguire questo upgrade? Sì, sicuramente. Buttate il vecchio telecomando e utilizzate il nuovo telecomando. In alcuni casi può essere brandizzato Samsung, in altri casi no. vi posso assicurare che non cambia assolutamente nulla. Per cui, vi lascio qui sotto il link in descrizione ad Amazon così potete dare un'occhiata ma fatemi sapere se anche voi volete fare questo upgrade o magari lo avete già fatto. A questo punto non mi resta fra l'altro che salutarvi dal nuovo telecomando Samsung. Allora, è che era tutto. Noi ci vediamo in un prossimo video. Ciao! Ciao!